Buongiorno ragazzi, sto fuori ma tranquilli, sto ancora in giardino e raga, sta quarantena mi sta distruggendo e mi sento solissimo, proprio solo solo, quindi per ora sto con le galline, ma dopo vado a rimorchiarmi delle ragazze su Omegol, però prima di quello dovevo farvi un annuncio, quindi pronti, annuncio! Quei belli raga, volevo fare questa cosa per voi perché siamo una famiglia, io sto facendo la mia canzone e tra poco devo fare il video musicale, dove volevo includere un botto di voi, quindi ragazzi per essere inclusi nel video musicale dovete solo andare su Instagram, seguitemi e mandatemi un messaggio e sceglierò un po' di voi per essere nella videoclip, in realtà tantissimi però vabbè, quindi ci vediamo su Instagram bella! Ok, ora andiamo direttamente a rimorchiarci ai ragazzi su Omegol Ok, questo sta toccando il pacco Dai, ci credo Bello, bro Daniele, Montani Saluta, bro Ciao Vai, bro, ho visto troppi piselli Siamo in due Devi dire la cosa più patetica hai fatto in questa quarantena Questa quarantena? Mi sono messo a studiare, penso che è la cosa più patetica La cosa più patetica? Vai, io allora ti batto, però mi sono messo a cantare in mutande, ho vinto Vabbè, bro, ora vado a vedere altri piselli Ciao Bello, bro Vabbè, vediamo Dai, un altro, non ci credo, è incredibile Un altro, ah, raga, questa cosa è clamorosa, sta quarantena sta distruggendo tutti Niente, cioè, questo qua è morto Oh mio... ma quanti? Ancora, ah, raga, è clamoroso, quanti, quanti, quanti? Oh mio Dio, non ci credo Cosa ho visto? Cerchi Cazzo, sì Sì Bro, sì Oh, bello Ehi, sei preso? Eh, sì Bene, pure io Dai Ehi, bella mia sorella Oi, 17, Curitiba e WC Dai, dai, sei una grande E tu, son bello Ho rimorchiato, ragazzi, ho rimorchiato il mondo Che vuoi dire? Fai vedere il tuo amico Quale amico? Non capisco qual è il mio amico Vuole che mi spoglio Mostra panza No, bro, cioè, che cazzo io non c'ho la panza Oh mio, sta ballando, ragazzi Sta ballando Bello, mio fratello, vuoi un caffettino? Niente Mi ha pisciato Cosa stai mangiando? Un cioccolato? Stai mangiando il cioccolato? Oh Stai mangiando il cioccolato? E' buono il cioccolato? Non ci credi Non ci credi Ma cosa ho fatto? Belli, fratelli Quelle persone non hanno ancora capito cosa è successo Ho incontrato l'Albert Einstein di Omegol Ha disegnato una faccina E come naso Ha messo il c***o Complimenti a lui, davvero Lo voglio come il prossimo presidente Oh mio Dio Gandalf Manco Gandalf riesco a rimorchiare Bello, fratello Ma sei montani Sì, bro Ma lui sta cagando Stai palesemente cagando, vero, bro? Sei un grande Hai tutta la mia stima Cioè, questo qua, non lo so che sta facendo Sta cagando per terra Ehi, fratello Hai delle belle sopracciglia Ciao, Dani Ehi Ti seguo su YouTube Davvero? Ah, bro, io sto registrando in questo momento Quindi saluta Veramente? Sì Ciao Bro, cosa ne pensi che sta quarantena? Come sta andando? Ah, abbastanza noiosa Prova, dai Meglio annoiarsi che morire per il coronavirus Oh mio Dio, un altro ragazzo nudo Ma perché c'hanno tutti la maglietta troppo stretta? Ma cosa ho appena visto? Ma cosa ho appena visto? Non ci credo Ora, bro, devi scrivere qualcosa Che mi traumatizzerà Cioè, qualcosa di veramente brutto Ora Lo devi scrivere là Che mi farà veramente schifo Quindi Omegol fa per te Complimenti I miei compagni facevano una finta di schifo Oh no Questa cosa sta Ora sta diventando veramente greve Ancora questo cioccolato Mangia Mangia il cioccolato Ancora col c***o di fuori Davvero, bro Vergognati No Lo è E poi si è proprio sbrigato Ma cosa ho visto? Ehi, fratello Un altro pisellone Complimenti Il mio? Il mio cosa? Dai, non c'ho un pisellone, bro Mi dispiace Non posso, bro Sono minorenne Ehi, misorella Oh, non ci credo Oh mio Dio Sono ancora un bambino piccolo Sono ancora vergi Non posso vedere sta roba Io faccio finta di niente Bella la giornata oggi, vero? Tutto bene, vè? Eccomi tornato Spero che vi sia piaciuto il video Su Omegol Se vi è veramente piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Commentate E ricordatevi l'annuncio Un bacione Ci vediamo nel prossimo video